le iene show 7 marzo vaticano e presunti abusi sessuali le iene show 7 marzo vaticano e presunti abusi sessuali nella puntata odierna due servizi si occupano di preti a seguire un approfondimento sui risultati delle elezioni politiche del 4 marzo mercoledì 7 marzo in prima serata su italia 1 va in onda il nuovo appuntamento con le iene show conducono la puntata infrasettimanale ilary blasi e teo mammucari in compagnia delle voci fuori campo della jalapas band un servizio della scorsa puntata anticipazioni di alcuni servizi della puntata il vaticano ha da poco riaperto il caso sui presunti abusi sessuali commessi da don silverio mura sacerdote a ponticelli in provincia di napoli l'inchiesta vaticana si era conclusa nel 2016 con un'archiviazione ora è stata riaperta di recente un quarantenne ha rivelato di aver subito delle violenze dal prete quando aveva 13 anni momo ha raccontato di aver segnalato più volte i fatti alla curia di napoli ma nonostante i suoi solleciti don silverio avrebbe continuato a insegnare religione in una scuola il servizio di pablo trincia prova a far luce sulla vicenda nina palmieri racconta la storia di biaggio conte missionario laico e fondatore della missione speranza e carità di palermo fratel biaggio il nome con cui è conosciuto in città accoglie e aiuta bisognosi ed emarginati della società i sandali francescani ai piedi un saio consumato bastone in mano e la barba lunghissima un po' come san francesco ha come obiettivo dichiarato di portare un messaggio di pace sono previsti inoltre alcuni servizi sulle elezioni politiche dello scorso 4 marzo ricordiamo che nella puntata di domenica il programma di davide parenti è andato in onda seguendo tra un servizio e l'altro e i risultati che provenivano dai seggi questa sera gli inviati faranno il punto sul risponso delle urne con testimonianze e interviste ad alcuni dei protagonisti dopo le iene show mai dire isola a seguire la serata di italia 1 continua con la jalapas band che conduce una nuova puntata di mai dire isola giorgio gerarducci marco santin e carlo taranto prenderanno di mira i naufraghi di caius e cociainos grazie a tutti